Sardegna Voglio farmi fotografare nei bagni del PINETA PINININETA Perché lavorare in un call center? Quando potrei fare pompini in Costa Smeralda? Notti ricoperte di sogni a giambe aperte Euforie perenni tra coca e minorenni Vivrai giorni magici sul tuo sacco rodici Gli soldi sagili Tutto ora è tutto vero, tutto dentro, tutto in nero 25 Escort, escort 25 Escort Tutto ora è tutto vero, tutto dentro, tutto in nero 25 Escort, escort 25 Escort 25 escorts Perché imparare a usare il congiuntivo? Quando sono così brava ad aprire il culo Vieni a lavorare nel mio baccanale Ti potrai pagare lo sbiancamento anale Umide gincane tra russe e brasiliane Fama nazionale Tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto in nero 25 escorts, escorts, 25 escorts, escorts Tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto in nero 25 escorts, escorts, 25 escorts, escorts Tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto in nero Tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto in nero Tutto in nero, tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto in nero Ho 25 anni e faccio la escort, la escort Tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto in nero Pagamento a 90